Uhuhuhuhuh, uhuhuhuh, uhuhuhuh, che squadra di merda, ahah, che squadra di merda, in casa pure col Francoforte, pure col Francoforte avete perso, 2 a 1, Lazio 1, 900 tifosi, ahah, che banda di seghe, rossi, durmisi, basta, Pratric, mamma mia, ahah, fate schifo fate schifo siete stati battuti 4 a 1 lì e 2 a 1 in casa mamma mia mica siete come noi che abbiamo vinto una partita in due mesi ma non significa niente avete perso 2 a 1 col flancoforte una partita importantissima l'avete fallita in questo modo mamma mia io mi vergogno per voi ma come si fa noi abbiamo giocato contro una squadra che di nome fa vittoria come pensavate che potevamo vincerci noi, era normale che avrebbero vinto loro voi giocavate col flancoforte il flancoforte ha Eintracht vittoria Eintracht sono due nomi molto diversi quindi è molto più onerevole la nostra sconfitta che la vostra ma vergognate quelli che ci prendevano in giro avete perso col vittorio e pezzo e voi avete perso col flancoforte io godo solo la Roma a Roma solo la Roma solo la Roma tra l'altro maglietta dell'annata migliore della Roma con Eric Lamella a stagione 2012-2013 quella della Coppa in faccia ma questi sono dei dettagli ininfluenti e niente ragazzi godo come un riccio godo tantissimo e questo non era un video serio ciao ragazzi grazie a tutti